Raccolta differenziata a Frosinone, un problema sollevato da più parti durante il question time. L'assessore all'ambiente di Frosinone, Massimiliano Tagliaferri, ha mostrato l'impennata di giugno, ma non ha convinto appieno i presenti. Tanti consiglieri che hanno detto la loro in merito a un tema così sentito, come il consigliere Marco Ferrara, che ha portato all'attenzione dei presenti le difficoltà incontrate dai cittadini, in particolare dei condomini di Vialdomoro, che si trovano costretti a collocare gli appositi contenitori all'interno dei loro androni, senza tralasciare continuo all'ingiustificato comportamento di alcuni cittadini a cui la raccolta differenziata proprio non piace e pensano bene di gettare i rifiuti in giro per il capoluogo. Quello che da più voci è stato chiesto è il miglioramento di un servizio che ancora, pare, faccia fatica a decollare. Rassicurazioni sono poi giunte dall'assessore all'ambiente Massimiliano Tagliaferri, che ha anticipato alcune novità, come le isole ecologiche mobili con apposita card, che dovrebbero essere attivate nel giro di qualche mese, e l'installazione di cestini con imbocco più stretto, in modo che non sia più consentito a gettarvi dentro intere buste di spazzatura. L'assessore ha proseguito il suo intervento segnalando due situazioni sulle quali si sta procedendo con le dovute verifiche. La prima riguarda il nuovo ospedale di Frosinone, che da 13 anni non paga l'immondizia, non fa la differenziata e ci deve circa 4 milioni e mezzo di euro. La seconda coinvolge la casa circondariale. Si sono rifiutati, continua l'assessore, di fare la raccolta differenziata e lo abbiamo segnalato al Ministero. Aggiunge inoltre, per lo smaltimento dei loro rifiuti spendiamo annualmente 300 mila euro, mentre loro ne versano appena 30 mila. Da qui Tagliaferri è passato ad illustrare l'ultimo dato, aggiornato alla scorsa settimana sul trend positivo della raccolta. L'assessore ha parlato infatti di un'impennata che ha toccato quota 62% nel mese di giugno. Il consigliere Stefano Pizzutelli, e non solo, sottolinea che il 62% è relativo al mese di giugno, ma basta guardare un secondo i dati per capire che si tratta dei primi 4 giorni di giugno, un dato un po' parziale. Aprile sta al 32% e maggio al 44%. Dalla tabella emergerebbe che la differenza per metallo e plastica è a quota zero. Solo dopo aprile, nella casella della plastica appare qualche cifra. Metallo e plastica zero, ma non è la base della differenziata, ma che dati sono, e che fine hanno fatto tutte le bottiglie di plastica che con pazienza conferisco da anni all'apposito bidone e le lattine? A sollevare i dubbi sull'effettiva veridicità del dato è stato anche il consigliere Marco Mastronardi, che con tanto di foto alla mano ne ha sottolineato l'impossibilità, dato che Frosinone è invasa dai rifiuti abbandonati in strada ed in campagna. Constatazione anticipata, ad inizio seduta, anche dal consigliere PD Angelo Pizzutelli.